Autore del gol, beh innanzitutto complimenti per la rete e poi è arrivato il pareggio del Crotone, pensi che sia giusto come risultato finale? Ma sì, credo che per quello visto in campo sia il pareggio, sia il risultato giusto e ovvio dispiace perché eravamo andati in vantaggio e potevamo forse gestire i primi 20 minuti del secondo tempo un po' meglio, però sapevamo che il Crotone è vero, sono nei play o out però la classifica non rispecchia il loro valore, sappiamo che alla lunga sono una squadra che potrà, penso, risalire la classifica. La Curazenga funziona invece, 16 punti in 8 gare o in 9 gare, comunque un bottino ottimo, qual è il vostro obiettivo? Noi siamo usciti dalla zona rossa da poco, quindi non possiamo permetterci di guardare più in là di domenica prossima che abbiamo una partita fondamentale in casa col Cosenza, per cui dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e poi tra dieci partite vedremo dove saremo.